Pescara è ancora una città sicura? Ora se lo chiedono in tanti dopo l'episodio di violenza che ha riportato al centro della cronaca nazionale la città adriatica. Un delitto senza pietà, colpi di pistola che non hanno lasciato scampo all'architetto Walter Albi mentre il suo amico Luca Cavallito che era lì con lui adesso lotta tra la vita e la morte. Sul luogo del delitto è intervenuto il sindaco Carlo Masci che chiede il gran voce non solo al questore ma anche agli organi superiori come il ministero dell'interno di dotare la città di più agenti di polizia. Nei giorni scorsi proprio in un tavolo tecnico in prefettura il questore Luigi Liguori aveva lamentato a scarsità di personale. Non è possibile che ci siano solo due volanti della polizia che girano di notte a Pescara quando Pescara è una città di grande attrattiva. D'altra parte lo dimostra anche il fatto che purtroppo dei due che sono stati coinvolti in questo episodio uno è il residente a Francavilla e l'altro a Montesilvano però si incontrano a Pescara. Sono pescaresi, gente che vive il nostro territorio, che viveva il nostro territorio. Non è possibile che accadano questi episodi. La città vuole risposte chiare, forti e determinate. E poi è lo stesso primo cittadino a voler smentire le voci che vorrebbero pescare una città non più sicura ma dove è evidente che gli episodi di violenza stanno aumentando. Senza scavare troppo nel passato possiamo benissimo ricordare l'uccisione di Marco Cervoni il primo gennaio del 2020 ucciso nel quartiere di Rancitelli e poi la sparatoria che ha coinvolto il 10 aprile scorso il barista Yelfi Gruzman in pieno centro. La città è controllata, abbiamo 400 telecamere, adesso sono all'opera per cercare di individuare se possibile l'assassino però Pescara ha bisogno di più controlli da parte delle forze dell'ordine. Ora i cittadini residenti di quella zona sono sconvolti. Ai nostri microfoni la testimonianza di un genitore che si trovava insieme ai suoi figli presso il parco Kidland. Il primo pensiero è andato ai bambini che stavano giocando, abbiamo visto gente poi scappare, correre dentro gridare c'è un pazzo che sta sparando, il primo pensiero è stato correre dai bambini e metterli al sicuro, quindi poi ci siamo rifugiati all'interno del locale, il gestore è stato pronto a chiudere ogni accesso per mettere al sicuro le persone dentro e poi abbiamo visto arrivare polizia da tutte le parti ambulanze, pian piano si è formata la storia dove si è stato, è venuto fuori che sostanzialmente è quello che si capisce un attentato.